Sono circa 400 i carabinieri delle compagnie di Cremona, Crema e Casal Maggiore che ogni giorno presidiano il territorio della nostra provincia per garantirne la sicurezza. Giornalmente l'arma dei carabinieri territoriamente competente sulla provincia mette in campo tra le 40 e le 50 pattuglie distribuite nell'arco delle 24 ore e omogeneamente presenti sul territorio, chiaramente con una specifica aderenza a quelle che sono le esigenze. In concomitanza delle partite di calcio, per esempio, diminuiscono le pattuglie in provincia da 50 a 40 per dedicare il personale al presidio dello stadio. Nel capoluogo ogni giorno operano 80 carabinieri e 15 pattuglie monitorano la città e i comuni limitrofi. Ora che si avvicina l'estate, le attività si concentreranno sulla prevenzione dei furti e sul controllo della movida serale. Sicuramente il clima consente una vita all'aperto maggiore rispetto al resto dell'anno e questo comporta inevitabilmente una concentrazione in alcune aree territoriali dove vi sono locali di intrattenimento che obbligano un'attenzione anche soltanto per uno scopo deterrente uno scopo di contenimento di quelli che non necessariamente sono condotte che arrivano a configurare delitti o reati ma che attengono di più quella che sono normale convivenza civile. Notevoli risultati ottenuti nelle azioni di contrasto al traffico di stupefacenti che è una delle criticità sul nostro territorio. Come tutte le città ricche anche Cremona ha il suo consumo di stupefacenti. È un aspetto questo su cui ci concentriamo, è un aspetto che ha conosciuto nell'ultimo periodo degli importanti risultati soprattutto nell'azione di contrasto, in particolar modo nelle campagne. Abbiamo verificato, grazie a uno studio del territorio e grazie anche a delle preziose informazioni che ci vengono dalla popolazione, senza la quale effettivamente il nostro servizio sarebbe sicuramente meno efficace, di aree dove si concentra uno spaccio di stupefacenti in aree rurali. Questo ha comportato lo studio, l'organizzazione e l'esecuzione di servizi che hanno portato ad importanti risultati sia in termini repressivi sia anche in termini preventivi.